È la più giovane delle cinque scuole superiori italiane, nata come progetto sostenuto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'Ocse, istituito come una nuova scuola di specializzazione italiana nel 2016, dopo un periodo sperimentale di tre anni, in cui i successi scientifici raggiunti sono stati tantissimi. La carriera del Gran Sasso Science Institute è stata rapidissima. Oggi apre e celebra il suo terzo anno accademico come scuola superiori d'eccellenza, la più a sud d'Italia, al di sotto dell'Istituto di Pisa. Una sfida, si può dire, vinta dalla città colpita dal terremoto dieci anni fa, quando quello che prima era un centro studi dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare fu selezionato dall'Ocse come fulcro dell'attività scientifica all'Aquila in Italia e in Europa. Tanti gli ospiti illustri del Gran Sasso Science Institute nella giornata di oggi, con l'intervento anche dei protagonisti delle attività scientifiche della scuola, dove si cercano la materia oscura, le onde gravitazionali, dove si indaga nel settore della matematica applicata, come crescono le radici delle piante e come comunicano addirittura fra loro, dove si studiano l'evoluzione umana e lo sviluppo territoriale. Tra gli ospiti illustri anche colui che il rettore Eugenio Coccia definisce l'angelo custode della scuola, lo scienziato Carlo Rubbia. Perché rappresenta per la seconda volta dopo la sissa di Trieste una possibilità concreta per un insieme di giovani che hanno già fatto gli studi di base di potersi perfezionare in certi campi, che sono tra l'altro vicini, nel nostro caso, ai campi che si fanno al Gran Sasso. Ognuno di questi giovani dovrebbe andare a cercare la cosa che gli interessa, anche se questa cosa non sembra essere la cosa più importante, perché in questo modo può avere un ruolo che gli sia specifico. Ma c'è un ostacolo da superare, quello del finanziamento, ancora insufficiente per sostenere una scuola che attira decine di scienziati e dottorandi e che ha bisogno, per mantenere il suo standard, di raddoppiare il finanziamento dai 4 milioni attuali a 8 milioni di euro. Il finanziamento invece, come dire, a questo punto diventa un limite per noi, ma su questo stiamo parlando con il MIUR e vedremo... In che senso è un limite? Beh, è un limite perché se non si hanno dei fondi a lungo termine, a tempo indeterminato, non si possono reclutare docenti e ricercatori a tempo indeterminato.